Da domani, il primo aprile fino al 31 ottobre, entrerà in vigore anche nel comune di Roseto degli Abruzzi l'imposta di soggiorno che, secondo una previsione, dovrebbe portare nelle casse comunali circa 500.000 euro. Da quest'anno è stata introdotta anche la possibilità di pagare l'imposta di soggiorno mediante un portale, che sarà fornito gratuitamente agli operatori turistici. Diciamo che è una conferma, perché ricorderete l'anno scorso i 1500 emendamenti che hanno inficiato in parte, tramite una sentenza del Tarri, il regolamento. Quindi con forza la mia amministrazione, concordando con gli operatori, con il tavolo del turismo, con le altre sette sorelle, con le sei sorelle, quindi noi sette sorelle della costa, abbiamo riconfermato una scelta. Primo aprile 31 ottobre, imposta di soggiorno, per destagionalizzare, per far percepire, l'anno scorso l'estato sarà anche quest'anno, che Roseto è viva in tanti periodi dell'anno, andremo verso una omologazione tra tutte le sette sorelle con tanti servizi. È stato un momento bello di confronto in cui la maggioranza ha espresso non solo la volontà di reistituire l'imposta di soggiorno e di restituire la stessa a quelli che saranno gli eventi, a quelli che saranno i servizi, a quello che sarà una cura maggiore del territorio. Con il nuovo portale sarà possibile creare una sorta di censimento dei turisti che soggiorneranno a Roseto, informazioni che saranno utili per attivare una promozione ad hoc e migliorare l'offerta turistica. Noi siamo fiduciosi che ci sarà una crescita tra l'antè che il progetto turistico Visit Roseto e tutto il progetto, ho voluto ribadire nel mio intervento, qualcuno ha strumentalizzato, facendo credere che un logo fosse costato 53 mila euro. Di 53 mila euro c'è un progetto molto più ampio, c'è la nuova gestione di Visit Roseto, c'è la gestione della gestionale appunto dell'imposta di soggiorno, ci saranno i social, ci saranno i video della città e di Visit Roseto appunto di tutti i luoghi di questa città. Insomma crediamo che possa crescere l'accoglienza, che possa crescere il numero, chiediamo uno sforzo anche agli operatori e agli investitori di far crescere quelli che saranno i luoghi dell'accoglienza turistica e chiediamo ai commercianti e agli operatori turistici di continuare a fare quello che stanno fare, cioè bene il turismo. Ma durante l'ultimo consiglio comunale il consigliere di opposizione di Fratelli Italia, Francesco Di Giuseppe, ha abbandonato l'aula consigliare durante la discussione dei suoi emendamenti al regolamento dell'imposta di soggiorno, annunciando il ricorso al TAR. Questo perché secondo Di Giuseppe l'accorpamento degli emendamenti imposto dal nuovo regolamento del consiglio comunale non permetterebbe all'opposizione di tutelare le categorie e difendere l'interesse pubblico.